Benvenuti a tutti voi a questa nuova puntata di Tutto di Più e oggi parliamo di commercio lo facciamo insieme alla presidente della ConfCommercio della provincia di Chieti Marisa Tiberio Buonasera Presidente grazie per aver accettato il nostro invito dunque parliamo di commercio con tutte le problematiche annesse e connesse come sappiamo ma prima di iniziare vi ricordo di segnalare, scrivere qualunque tema in ambito culturale insomma ecco di tutto di più quindi che va dalla tutto ciò che è costume e società a di tutto di più redazione chiocciolagmail.com Allora Presidente intanto siamo in pieno periodo di saldi da poco iniziati è possibile fare un primo consuntivo dopo almeno insomma circa una settimana ecco di saldi? Sì dunque innanzitutto mi preme dire che dopo un periodo di crescita e anche di ripresa che abbiamo registrato nel periodo estivo purtroppo a dicembre sono tornate le forti preoccupazioni per la crescita dei contagi ma anche per la forte inflazione che a fine dicembre ha registrato il 3,8% ma soprattutto per l'aumento dei costi energetici e dei carburanti e la spesa stimata per questi saldi è stata di 119 euro pro capite per 275 euro di spesa a famiglia purtroppo devo dire anche con una piccola nota polemica se me lo consente che credo che le famiglie questa somma se la siano già spesa con le sose bollette dell'acqua e dell'atari che in alcuni comuni purtroppo sono arrivate con le rate già scadute e quindi da pagare in un'unica soluzione certo è che i saldi rappresentano comunque una grande occasione sia per i commercianti che per i consumatori e da un lato i commercianti che rinunciano a dei margini di profitto puntando alla liquidità necessaria per superare questo lungo periodo di crisi dall'altro i consumatori che magari possono approfittare di acquistare dei prodotti a prezzo ribassato in sicurezza con consulenze personalizzate da parte dei commercianti che comunque esprimono un modello di impresa che mettono al centro la qualità e il rapporto con il cliente che è un elemento cardine dei negozi di vicinato insomma un bel ha messo già tanta carne a fuoco presidente diciamo quindi dopo una grande c'è stata una piccola flessione quindi a Natale periodo natalizio in questo primo proprio periodo primissimo di gennaio si tiene costante perché comunque il covid ecco questo nuovo no la prima settimana dei saldi non è andata bene ecco perché i negozi sono pressoché vuoti perché c'è forte preoccupazione ad andare in giro ma poi perché la pandemia comunque che ha dei numeri pazzeschi negli ultimi dieci giorni fa sì che si limitino i momenti di convivialità e quindi quando non c'è convivialità non c'è passeggio non c'è shopping i consumi rimangono fermi al palo Presidente lei è Presidente del ConfCommercio provincia di Chieti dal 2013 possiamo dire che lo è stata e lo è proprio negli anni più difficili perché la crisi era iniziata da poco quindi hai preso questo incarico forse nel momento più difficile questo è vero ecco le problematiche del commercio di tutto il settore sappiamo bene quali sono cominciare dalla concorrenza del web per finire magari con le isole pedonali nelle varie città costi appunto fissi elevati come luce gas anche a volte spesso degli affitti proprio dei locali anche molto alti molto esosi ecco cosa possiamo fare per cosa si può allora la base di tutto c'è il fatto che ci mancano gli incassi perché se ci fossero gli incassi si riuscirebbe anche a sostenere dei costi di gestione come quelli che abbiamo ecco a proposito chiedo scusa se l'interrompo proprio sugli incassi il web ha dato fatto la sua parte nella assolutamente sì lei pensi che noi abbiamo commissionato a novembre un un sondaggio sulle intenzioni di acquisto dei consumatori per il Natale ben il 69% ha dichiarato che avrebbe effettuato acquisti online il 55% nella grande distribuzione e solo il 41% nei negozi di vicinato certo è che abbiamo purtroppo un bel ricordo del commercio che è andato discretamente fino alla grande crisi del 2009 2010 ora sono dieci anni che la pandemia non è che ha fermato un fiume in piena c'erano già tanti tanti problemi ciò che va affrontato sono un po' urgentemente sono un po' i temi che ha elencato lei e cioè una legge del commercio che rispecchi quello che è il nostro motto stesso mercato stesse regole e quindi il web con le sue piattaforme e anche gli spacci gli outlet lei pensi che a volte i nostri fornitori ci fanno una concorrenza sleale soprattutto nel campo della moda che loro vendono sul web a quanto noi acquistiamo e quindi è un gioco forse in cui noi siamo perdenti già in partenza e quindi ci vuole un'azione di grande coraggio soprattutto da parte della politica e del governo di affrontare questi temi che ormai ci portiamo dietro da tantissimo tempo e che non c'è una volontà politica una volontà politica perché bisogna fare delle scelte coraggiose questo è interessante quello che lei dice perché in effetti lei auspica una normativa a supporto ovviamente una nuova normativa a supporto del settore e che appunto venga fatta dall'alto quindi non tanto aiuti come spesso o forse retoricamente si potrebbe pensare aiuti economici ma proprio legislativi soprattutto legislativi perché noi non il commerciante guardi io sono commerciante da tre generazioni quindi ho una lunga tradizione alle spalle il commerciante vuole solo lavorare il commerciante per il commerciante è mortificante chiedere un sostegno certo in questi ultimi due anni ne abbiamo avuto bisogno chiunque abbiamo chiesto le moratorie fiscali abbiamo chiesto il credito d'imposta sugli affitti bisognerebbe anche chiedere sulle rimanenze di magazzino che purtroppo è un problema che attanaglia ogni commerciante ogni negozio di vicinato anche se se ne fa sempre meno se ne fa sempre meno per cui anche l'offerta merceologica è ridotta è un po' ridotta è un po' limitata rispetto a quelli che erano gli anni diciamo ecco questo potrebbe essere forse un come dire un valore aggiunto poi del web il fatto di poter avere maggiore offerta perché appunto è un magazzino virtuale lo possiamo chiamare così però in realtà c'è questo magazzino maggiore di offerta rispetto al piccolo commerciante io credo che chi compra su internet e perché c'è la voglia legittima di risparmiare dipende aggiungerei perché non sempre il risparmio è garantito questo non lo voglio dire io però nelle intenzioni del consumatore c'è quello del risparmio magari qualche settore sì ma molti settori ecco tanto risparmio poi alla fine sotto il profilo ecco per esempio del prodotto tecnologico sicuramente sul web si trova tutto e magari trovare un prodotto particolare nel negozio fisico può accadere di non di non come dire soddisfare le richieste di tutti i clienti ma io dico che noi negozi di vicinato abbiamo bisogno di un segnale forte da parte della politica del governo ci sentiamo un pochino abbandonati perché è come se il piccolo imprenditore non interessasse più e quindi voglio lanciare una riflessione oggi siamo a Lanciano che è un centro storico bellissimo lo immaginiamo il corso di Lanciano il centro storico di Lanciano con tutte le insegne spente e le vetrine e i negozi chiusi ma il corso di qualunque città di qualunque città ho fatto l'esempio di Lanciano perché oggi siamo a Lanciano la nostra sede e quindi che cos'è ogni insegna e ogni vetrina che si spegne è un pezzo della città che muore e quindi avremmo delle città dormitorio dove magari incontreremmo solo i corrieri che consegnano i pacchi per gli acquisti online certo ma poi non ci sarebbe il senso della comunità della comunità perché diciamo la verità quando si entra in un negozio c'è la cacchierata poi c'è il negoziante di fiducia quello che si conosce da diversi anni ecco lei ha detto io sono da tre generazioni che nella mia città faccio commercio quindi immagino avrà tanti clienti storici quindi diventa quasi l'amico il cliente amico o il commerciante amico che di cui si poi si ha fiducia sostanzialmente ecco questo sul web si avviene può avvenire ma è sempre un qualcosa di virtuale non è mai una vicinanza fisica e la relazione umana che chiaramente viene meno quando poi si abbassa la sara cinesca di un negozio ma poi noi subiamo anche un altro un altro fenomeno che è quello che purtroppo molte persone ci utilizzano come il degli showroom nel senso che vengono chiedono di fare fotografie per poi acquistare su internet e questo succede ogni giorno ogni giorno e quindi visualizzano il prodotto da noi lo toccano lo misurano ecco e infatti io volevo proprio dirle proprio questo mi veniva in mente quando si parlava del web sì ok il web fa un concorrenza ovviamente al negozio fisico ma c'è una fetta di che poi quel 41% lo dice chiaramente di consumatori che preferiscono il negozio fisico perché perché è normale che un consumatore voglia toccare con mano ciò che acquista quindi visionarlo provarlo non sempre è possibile fidarsi di qualcosa che si acquista online certo c'è la possibilità di rimandarlo indietro però insomma anche quello richiede del tempo insomma è un impegno ecco il tempo impegno alla fine si fa prima ad andare nel negozio di fiducia e acquistare penso io credo che noi siamo ancora abbastanza fortunati perché la nostra regione ha una popolazione tra virgolette più adulta anziana adulta grande di età e la provincia di Chieti in particolare è quella che ha maggior presenza di over 65 e quindi diciamo che abbiamo una popolazione si digitalizzata ma non tantissimo o quantomeno non per gli acquisti esatto rispetto ai giovani esatto quindi più il prodotto è di qualità più l'acquisto è importante dal punto di vista proprio del valore e più si preferisce frequentare il negozio di vicinanza di vicinato e Presidente ecco ha fatto bene a fare questa distinzione della fascia d'età perché sappiamo che i giovani sono quelli più affezionati all'acquisto online cosa si sente di dire proprio ai giovani in futuro lei come vede questa fidelizzazione del giovane nell'acquisto online rispetto a quello fisico ecco potrebbe venire meno questa fidelizzazione oppure potrebbe cambiare qualcosa io credo di sì perché i ragazzi i ragazzi capiranno che bisogna fare sempre sinergia sinergia ma anche una riflessione ambientale perché sappiamo che fare tanti acquisti per poi comprare una maglia pagata pochi euro e poi buttarla non fa altro che danneggiare l'ambiente ma poi penso che insomma i ragazzi sono molto sono da tra parte si dice nativi digitali i famosi millennials e quindi hanno questa capacità di valutare il prodotto di essere veloci nell'acquisto con i pagamenti elettronici però io penso che poi come crescono e quindi assumono quella responsabilità sociale che sicuramente va riconosciuta ad un negozio fisico credo che poi superata io sono ottimista superata questa fase comincio a vedere in negozi anche figli di clienti storici e che quindi quando ho aperto il negozio io non erano ancora nati adesso sono diventati loro stessi genitori quindi sono delle belle storie che si potrebbero raccontare dietro al bancone certo sicuramente invece diciamo vediamo la medaglia dall'altra parte quanto un negozio fisico potrebbe innovarsi e fare contemporaneamente anche negozi online per sopravvivere e per restare bene sul mercato allora avere un e-commerce non è una cosa semplice per un negozio di vicinato perché ci vuole un'organizzazione con del personale specializzato e con del personale dedicato sicuramente bisogna avere una vetrina virtuale come facciamo quasi tutti quindi utilizzare i social per mostrare i prodotti per fare un po' di storytelling per farsi conoscere perché purtroppo se non si è sul web è come se non si esistesse quindi questa parte qui di digitalizzazione sicuramente va fatta per l'e-commerce incontriamo molte difficoltà a meno che non si comincia a essere un negozio abbastanza con una struttura organizzativa perché magari facendo un giusto investimento poi ecco gli incassi come diceva lei prima all'inizio ovviamente arriverebbero maggiormente maggiormente si potrebbe anche sostenere la spesa per personale aggiuntivo insomma per l'organizzazione di cui parlava si deve fare però non è una cosa che si fa con la bacchetta magica purtroppo no e poi questa pandemia esatto l'ha rallentato questa pandemia da una parte ha rallentato diciamo l'evoluzione però ha aumentato il bisogno di farlo ha aumentato il bisogno quindi ha accelerato un po' il processo cioè l'ha rallentato dal punto di vista di organizzazione per partire insomma nell'organizzazione perché ovviamente con i lockdown ci si è veramente fermati chi si era organizzato prima ne ha molto suffruito e quindi ne ha beneficiato durante il lockdown quindi possiamo fare una distinzione tra chi in effetti era già avviato chi ci ha creduto e chi invece ha visto già i risultati invece chi era rimasto fermo però si è convinto con il covid con questi lockdown si è convinto a fare il passo è stato proprio l'elemento probabilmente scatenante ecco quindi lei vede in futuro anche nel nostro territorio un'accelerazione in questo senso ci saranno sempre più io guardi io tra la paura e il timore e il coraggio scelgo sempre il coraggio perché il coraggio è una spinta incredibile per farci andare avanti e anche se non sono più una commerciante di ultima generazione però mi contraddistingue è sempre la fiducia e la passione ad andare avanti certo i tempi sono difficili ma ci chiamiamo imprese proprio perché il termine no di solito diciamo ma questa sarà un'impresa come per dire una cosa difficile possiamo definire gli eroi coloro che oggi hanno ancora un negozio fisico perché soprattutto il piccolo negozio perché tra economia globale e digitalizzazione e il web veramente c'è insomma trovare spazio in questi grandi come dire colossi è davvero difficile significa veramente essere eroi e faticare tanto per andare avanti purtroppo la le liberalizzazioni delle delle attività commerciali e il la perdita di valore delle nostre licenze che alla fine erano il nostro TFR e ci hanno spiazzato e hanno cambiato tutte le regole del mondo del commercio e sicuramente su questo non si potrà tornare indietro ecco lei oggi direbbe a un giovane di fare di buttarsi in questo settore di avviarsi insomma trovare occupazione in questo settore il grande problema di molti di molte attività commerciali è quello che non c'è ricambio generazionale per quello che è il mio il mio sentore i giovani stanno tornando così un po' spinti forse anche dai genitori a trovare il cosiddetto posto fisso perché oggi augurare a un figlio soprattutto in questo momento così difficile in cui stiamo resistendo di fare impresa è piuttosto coraggioso però devo anche dire che praticamente i ragazzi cioè noi dobbiamo dimenticare quello che è stato il commercio nel passato altrimenti non potremmo più andare avanti siamo ritornati un po' all'anno zero anche quelli come me che da 37 anni stanno sul mercato e stiamo un po' ricominciando da capo incredibile e quindi mentre noi abbiamo un facciamo una comparazione con quelli che erano i dati di 10 20 anni fa e questa comparazione ci scoraggia e ci fa male un giovane che parte oggi non può che migliorare nel futuro anche perché ha maggiori energie nuove energie e quindi entusiasmo maggiore non ha conosciuto appunto la differenza tra quello che era ieri il commercio e quello che invece poi come è degenerato come è degenerato oggi quindi probabilmente con nuovo entusiasmo nuove idee sicuramente potrebbe fare molto bene presidente allora intanto speriamo che questi saldi riprendano insomma perché c'è ancora tempo quindi fino al 5 marzo ecco quindi abbiamo veramente tanto tempo e speriamo che anche la pandemia inizia inizi un po' a calare nei contagi in modo che la gente torni un po' a socializzare e magari già dalla metà di febbraio speriamo e quindi fino a marzo quindi ci sarà del tempo per spendere e per acquistare e rivolgiamo l'invito a tutti a questo punto di sostenere il piccolo commercio perché è una realtà anche sociale soprattutto sociale importante per ogni nostra città e ogni comune ogni comunità e grazie quindi grazie a lei per essere stati con noi e bocca al lupo a tutto il commercio e noi ci vediamo venerdì prossimo sempre con di tutto di più buonasera grazie a tutti